Ormai sono diventato anche io un piccolo aviatore, piccolo grande aviatore grazie agli amici dei falchi di Daffy, del Lions Club e dell'Aeroclub di Torino che mi hanno permesso di avere il battesimo del volo sabato scorso. Ne parliamo con i nostri ospiti che sono tornati a trovarci a distanza di alcuni giorni. Antonio Centocchi, buongiorno. Buongiorno a te. Presidente dell'Associazione Falchi di Daffy e Vice Presidente Consigliere dell'Aeroclub di Torino. E Mauro Dogliotti, buongiorno, Presidente del Lions Circoscrizione 1 Zona B. Allora andiamo subito con le immagini di questa bella manifestazione terza edizione, piccoli aviatori che si è svolta sabato mattina al Campovolo di Collegno. Una bella iniziativa per volare sempre più in alto, ma soprattutto a favore di bambini e ragazzi meno fortunati di altri loro coetanei. È vero? È vero, è vero, sì. Infatti, oltretutto è stata una giornata fantastica, sia come tempo meteorologico, come grande partecipazione, perché se guardiamo i dati ufficiali della giornata abbiamo avuto 72 bambini accompagnati da circa 200 persone, 18 aerei, un elicottero, 18 piloti dell'Aeroclub Torino che hanno messo completamente a disposizione gratuitamente i loro velivoli e ovviamente anche il carburante necessario per farli volare, 50 volontari impegnati nell'accompagnare i bambini che hanno visitato l'aeroporto, hanno visitato l'anga, le strutture, hanno visitato l'attore di controllo, gli elicotteri esposti. Eccoli qua, che hanno fatto già una visita. Esatto, ecco. Ma visita più volo, eh? Visita più volo, sì. Ci sono stati un piccolissimo gruppo di bambini che purtroppo per condizioni fisiche che non erano in grado di volare ma che comunque hanno potuto essere accompagnate a visitare l'aeroporto. Però grazie anche all'intervento della signora Musoni che è titolare di una scuola di volo di elicotteri, ha messo a disposizione un elicottero che consentiva di portare in volo anche i bambini su sedia a rotella. E questo è stato una cosa veramente eccezionale perché per la prima volta siamo riusciti a far volare anche quelli che non sarebbero potuti volare. Due note tecniche, Antonio, su questi aerei. Sì, allora questo, ad esempio, che è inquadrato in questo momento è un Piper, anche questo. Diciamo che le tipologie sono principalmente due. Il Piper che ha l'ala bassa, come vedete, cioè l'ala è sotto la carlinga, e il Cesna che è quest'altro invece che ha l'ala sopra la carlinga. Ecco, io ho fatto il volo con quello, eh? Tu hai volato su quello lì, sul boom, esatto. Quello che vedete arrivare è quell'elicottero che vi dicevo della scuola di volo della signora Musoni che ha messo a disposizione il suo elicottero e ha fatto volare i bambini in sedia a rotella, come vedete ce n'è uno. Questo invece è un Cesna 172 dei falchi di Daffi. Questo è l'aereo che i falchi di Daffi utilizzano per la sorveglianza aerea del territorio. Noi infatti sul territorio del Piemonte facciamo la sorveglianza antincendio, ricerca... E c'è il marchio Regione Piemonte. E c'è il marchio Regione Piemonte, esatto. Questo invece è un Sirrus, è un aereo già molto più evoluto rispetto agli altri, ma sono tutti aerei a quattro posti che hanno la possibilità anche di fare voli molto lunghi, cioè con la loro autonomia possono, in base alla loro autonomia, possono arrivare in tutte le zone d'Europa. Antonio, come ti è venuta questa idea tre anni fa di unire la passione che hai per il volo, col fascino di chi di solito sta con i piedi per terra e soprattutto con un fine benefico, perché c'è proprio una terapia del volo. Sì, esatto. I voli che noi facciamo sono veramente una terapia, questo è riconosciuto anche dagli specialisti medici che ci seguono, che hanno visto che siccome soprattutto i bambini oncologici o trapiantati hanno l'esigenza di avere dei momenti di svago particolare, ma non solo i bambini che tutto sommato i bambini sono anche molto bravi nel recuperare le forze, ma la famiglia, la famiglia che subisce molto di più la malattia rispetto al bambino malato. Ed è veramente una terapia perché la scarica di adrenalina che dà una giornata di questo tipo, gli aiuta poi a superare le difficoltà quotidiane delle terapie oncologiche che affrontano. Mauro, come si inserisce la collaborazione del Lions con questa manifestazione? Guardate intanto i bambini come i ragazzini come sono attenti alle spiegazioni, in questo caso dei vigili del fuoco. Sì, dobbiamo dire che anche lo stesso personale che era presente, entusiasta di questa cosa, ha veramente dato il massimo anche per descrivere quello che è l'attività, anche perché chi vola, vola soprattutto per grande passione. Chi lo fa anche per lavoro, ovviamente butta nel lavoro la grande passione che ha. Allora, diciamo questo che i Lions sono sempre molto attenti a quelle che sono le malattie dei bambini, ad esempio il morbillo che in quest'ultimo periodo è una malattia che noi ormai abbiamo messo nel cassetto e adesso assolutamente è tornata una malattia come se fosse la febbre o la tosse, i Lions a livello mondiale sono impegnati in questo grande service. A livello distrettuale invece, con i falchi di Duffy, abbiamo cementato questa idea perché con Antonio Centocchi, che ci conosciamo da diversi anni, abbiamo pensato di regalare questo giorno diverso a questi bimbi.